Ciao Laura, ciao, buonasera a tutti, ciao, ciao, come va? Ah molto bene, allora Laura, io sono felicissimo che tu sia qui perché sei romagnola come me, perché hai cominciato che eri quasi una bambina, come hai cominciato? Io ho cominciato una sera quando avevo otto anni, il giorno del mio compleanno, mio papà suonava in un piano bar di Bologna, e mi ha chiesto cosa volevo per regalo quell'anno, e io ho chiesto di poter salire sul palco con lui a cantare una canzone, era una canzone di un cartone animato, si chiama Dolce Remy. Com'era? Dolce Remy, piccolo come sei Avevo otto anni, ero piccola, ma poi dopo ho cominciato a imparare delle canzoni che mi hanno aiutato a amare ancora di più la musica e a fare piano bar per tanti anni, fino a 18 anni quando sono andata... Posso confermare perché a Bologna, alla pizzeria Napoleone, che ancora esiste, salutiamo naturalmente, c'è un piano bar proprio lì dietro, e molti musicisti bolognesi, molti cantanti bolognesi, da Dalla, Carboni, Guccini, Vasco Rossi, io stesso, siamo andati a vedere questa ragazzina che cantava insieme a suo padre, e tutti eravamo piuttosto stupiti della bravura di questa ragazzina. Qualcuno ha anche tentato di farti così delle proposte di lavoro, oppure poi com'è andata a finire? Per mia fortuna, nel 93, una persona mi ha sentito cantare a un concorso, ne ho fatti tanti, e uno di questi concorsi l'ho vinto, e mi ha sentito, mi ha proposto di fare la solitudine, e poi sono partita a cantare. Guarda questo pianoforte, se chiamiamo il maestro dei amici, ecco, ricreiamo quel momento di... Sì, sì. Mi ricordo che... Mi ricordo che tu cantavi una canzone bellissima, che era tratta da quel musical americano, Cats, no? Ah, sì, sì. Come si chiama il brano? Memory. Memory. Memory, oh my lord is the moonlight, I could smile at the old days, I was beautiful then. I remember the time I knew what happiness was, Let the memory live again. Sai cosa mi stava venendo in mente, Laura, a parte che hai una voce splendida? I miei inizi, io ho cominciato, ho cominciato a cantare, è vicino a casa tua, in una casa del popolo. Dove? Alfonsine di Ravenna. Mamma mia, proprio vicinissimo a casa mia. Ricordo che il pomeriggio arrivai, ero con l'orchestra Scaglione di Bologna, e la prima cosa che notai è che c'erano dei grandissimi poster, che poi non si chiamavano, allora non si chiamavano poster, dei manifesti, dei cartelloni con sopra le facce di, tu forse non li conosci, Lenin, Stalin, Togliatti e Nenni. Poi io in questa casa del popolo ci sono ritornato a cantare negli anni successivi, avevo già fatto il primo disco, poi più avanti. Ogni volta spariva uno di questi ritratti. No, prima è sparito Nenni e Togliatti, poi è sparito anche Stalin, e poi alla fine anche Lenin, alla fine è sparita anche la casa del popolo, non c'è più. L'ultimo concerto l'abbiamo fatto in un campo sportivo. Ebbè da noi le case del popolo, insomma, sono posti dove si cantava sempre. Chi te l'ha detto, tuo babbo? No, non è mica vero, ce ne sono poi ancora, le case del popolo dove si riunisce, lo sai bene che in Emilia Romagna tantissime persone cantano, tanti ragazzi, tanti ragazzi iniziano proprio in questo modo ad amare la musica, andando in questi... Nelle balera, nei dancing. Sì, andando nel campo sport. La canzone di Mina, quella facevi benissimo, grande, grande. Con te dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei, i tuoi difetti sono talmente tanti, che nemmeno tu li sai, sei peggio di un bambino capriccioso, la vuoi sempre vinta tu, sei l'uomo più egoista e prepotente, che abbia conosciuto mai. Ma c'è di buono che al momento giusto tu sai diventare un altro. In un attimo tu sei grande, grande, grande come te, sei grande solamente. mentre tu. Grazie